Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, stiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che qualcuno o qualcuna di voi mi ha consigliato sul Google Docs. In questo video voglio parlarvi del caso di Linda Elaine Sobeck, ma sappiate che ho deciso di parlare anche di altri due casi poiché il colpevole è stato sospettato anche di altri due delitti, ma come al solito andiamo con ordine. Giovedì 16 novembre 1995 è una grande giornata per la 27enne Linda Sobeck. Di recente ha interpretato un ruolo nella popolare sitcom Married with Children ed è sicura che quella parte le permetterà di avviare una carriera come attrice. Infatti quel giorno deve fare un'audizione per provare ad ottenere una parte in uno show televisivo. Linda nasce il 9 luglio del 1968 a Los Angeles negli Stati Uniti come Linda Elaine Sobeck da suo padre Bob Sobeck e sua madre Elaine Sobeck, anche un fratello di nome Steve. Quando Linda si diploma è sicura di voler fare la modella. Fa quindi un provino per la squadra di cheerleader dei Los Angeles Raiders e viene scelta battendo circa mille altre candidate per uno dei 40 posti nella Raiderette della squadra. Linda è una ragazza estroversa e amichevole e quindi diventa uno dei membri più popolari del gruppo di cui fa parte fino al 1993. Dopo aver lasciato il gruppo rimane amica di molte sue colleghe tra cui Gretchen Stockdale di 30 anni. La donna infatti dice Linda era il tessuto che univa il nostro gruppo. Nonostante la sua bellezza, Linda era uscita relativamente con pochi uomini negli ultimi anni. Gretchen, la sua amica, dice Non avevamo appuntamenti lo scorso San Valentino, quindi siamo rimaste insieme e abbiamo ordinato da asporto. Ci siamo sentite un po' in imbarazzo. Ora, io non capisco da dove arrivi questo imbarazzo. In ogni caso, ultimamente Linda aveva cominciato a godere di una vita sociale più attiva. Lavora, come già vi ho detto, come cheerleader nella NFL per 5 anni, intanto frequenta l'università. Va al Cerritos Community College, ma poco dopo tempo lascia gli studi per concentrarsi sul suo sogno più grande. Fare la modella. Linda è troppo bassa per fare la modella di alta moda. Tuttavia, grazie al suo aspetto e alla sua figura sinuosa, posa per delle pubblicità di costumi da bagno, fa diversi calendari, posa per diverse riviste di automobili e cataloghi. Quella mattina del 16 novembre, Linda chiama sua madre, Elaine, per dirle che è in ritardo per un servizio fotografico, ma le promette di richiamarla al più presto, in quanto devono parlare di un barbecue che è stato programmato a casa della sua famiglia nel fine settimana. Le giornate di Linda sono incredibilmente impegnative, ma non dimentica mai di chiamare sua madre. Linda è una persona affidabile. Infatti, quando Elaine non riceve la chiamata di sua figlia, si allarma immediatamente. Vista dall'esterno, questa situazione potrebbe non apparire allarmante, ma Elaine capisce immediatamente che qualcosa proprio non va. Non è da Linda non richiamare sua madre. Il fratello di Linda, Steve, cerca di tranquillizzare sua madre Elaine, dicendole che probabilmente a quell'ora Linda sta già dormendo, si è semplicemente dimenticata di chiamarla, insomma. Ma Elaine è sempre più preoccupata. Chiama una delle migliori amiche di Linda, Brooke Morales, per sapere se è al corrente di dove possa essere. Quando Elaine scopre che Linda non si è presentata a nessuno dei suoi altri appuntamenti e audizioni quel giorno, capisce immediatamente che ha sempre avuto ragione ad essere preoccupata. A quanto pare, nessuno conosce il fotografo con cui Linda aveva un appuntamento per il servizio fotografico, in quanto aveva accettato questo incarico senza che passasse dalla sua agenzia. La famiglia e l'amica di Linda non perdono tempo, denunciano immediatamente la sua scomparsa, stampano dei poster e offrono una ricompensa in denaro per qualsiasi informazione utile. C'è però un bel problema. La casa di Hermosa Beach che Linda condivideva con tre coinquilini non porta ad indizi utili. Inoltre, nessuno era al corrente di dove dovesse andare Linda per fare le foto quel giorno o chi doveva incontrare. Questa situazione chiaramente rende molto più complicata la sua ricerca. Dati i fatti, i suoi amici e la sua famiglia ovviamente cercano di diffondere ancora di più la storia della sua scomparsa. Quindi, sabato, due giorni dopo la sparizione di Linda, contattano i media e in effetti molti canali in tv iniziano a parlarne. Domenica molti TG avrebbero riportato la notizia. Però, lo stesso giorno in cui gli amici e la famiglia di Linda stanno cercando di far conoscere la sua storia, un operatore ecologico trova qualcosa in un bidone della spazzatura nell'Angeles National Forest, che si trova a circa 25 miglia a nord di Los Angeles. L'uomo, mentre svuota i cestini della spazzatura, trova delle foto di Linda nascoste in un'agenda. Porta quindi tutto a casa con sé, fino a quando non vede il notiziario di lunedì sera, riconoscendo che la ragazza presente in tv è la stessa delle foto che ha trovato. L'uomo quindi contatta la polizia dicendo che ha trovato in un bidone della spazzatura un'agenda con all'interno delle foto. Probabilmente quelle foto raffigurano proprio Linda. Charles Radboud è un fotografo freelance di 38 anni, originario dell'Ohio, che vive ad Hollywood ed è considerato un lavoratore eccellente, è molto bravo a fare foto. Sorprendentemente, l'uomo ha contattato l'autorità quando la storia della scomparsa di Linda si è diffusa. dando loro delle informazioni parecchio importanti. Spiega ai detective che in effetti aveva incontrato Linda giovedì mattina in un ristorante di nome Dennis a Torrens, a circa 8 chilometri da casa della ragazza, che si trova, come già vi ho detto, ad Hermosa Beach. In quel ristorante i due avevano discusso del portfoglio della ragazza e di come avrebbe potuto migliorarlo. Secondo l'uomo, in seguito lui e Linda si erano separati perché entrambi avevano in programma parecchi appuntamenti. Un mese prima Linda gli aveva dato il suo biglietto da visita e il numero di telefono ad un salone automobilistico a Las Vegas e gli aveva detto di tenerla a mente per dei lavori da modella. La polizia dunque si dirige al ristorante Dennis a Torrens, dove trovano l'auto di Linda, ma non Linda. Per quasi una settimana la polizia non trova alcun indizio sul caso di Linda Sobeck, fino a quando Charles Ratbun, in stato di ebrezza, chiama un'amica e le confessa che ha qualcosa a che fare con la scomparsa di Linda. Al telefono dichiara di avere una pistola e di volersi suicidare. L'amica, una donna deputata presso il dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Angeles, si precipita a casa di Charles per impedirgli di farsi del male. Lei ci vuole un po' di tempo per convincere Charles a lasciare la sua casa, mentre lei e un altro amico sono nel vialetto. E quando Charles esce da casa, spara accidentalmente con la sua arma e il colpo rimbalza sull'asfalto, ferendo il vice sceriffo. Anche la sua compagna che si trova in casa è stata ferita solo pochi istanti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. A questo punto la polizia perquisisce la spazzatura nell'Angeles National Forest, poiché le foto di Linda sono state trovate proprio lì. E infatti i detective trovano ulteriori prove. C'è un'altra agenda in cui all'interno è presente un contratto di noleggio auto per una Lexus e il nome su quel contratto è quello di qualcuno che conoscono, ossia Charles Radburn. Una volta preso in custodia, Charles spiega in lacrime che aveva chiesto a Linda di lavorare per lui quel giorno e infatti aveva noleggiato l'automobile per scattare delle foto per la rivista Auto Week e ovviamente voleva che Linda posasse per lui. Linda aveva accettato di fare quelle foto, quindi erano saliti in macchina e Charles aveva guidato un paio d'ore fino a El Moraje, un lago asciutto nel deserto del Mojave. Charles per l'esattezza voleva alcune foto di Linda alla guida dell'auto, voleva che guidasse in tondo facendo delle curve ad alta velocità. Ebbene, mentre Charles stava spiegando a Linda come guidare l'auto, aveva perso il controllo del volante schiantandosi contro di lei. L'impatto l'aveva fatta morire sul colpo. Charles a quel punto non sapeva cosa fare, quindi aveva messo il suo corpo in macchina e aveva guidato in giro, senza meta, preso dal panico. Poi si era diretto all'Angelis National Forest e l'aveva seppellita sotto meno di 60 cm di terra, scavando una piccola fossa con le mani. La polizia ora sa che i sospetti che aveva erano curati. Devono cercare il corpo senza vita di Linda. Solo poche ore prima che i poliziotti portassero Charles nell'Angelis National Forest. L'uomo ha fatto quello che le autorità definiscono un timido tentativo di suicidio, usando un rasoio usa e getta per tagliarsi le vene di entrambi i polsi. Il sergente Ron Speer del dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Angeles dice rispetto a questo fatto Se vuoi chiamare qualche graffio superficiale un tentativo di suicidio, allora immagino che lo fosse. Qualunque fosse l'intento di Charles o il suo reale stato mentale ed emotivo, è in grado di riprendersi in poche ore, tanto da riuscire a passare tutta la notte con la polizia alla ricerca della buca in cui aveva lasciato il corpo di Linda. Charles alla fine lo trova con non poche difficoltà, Ma una volta scoperto, gli inquirenti trovano Linda completamente vestita addosso dei pantaloncini e una maglietta. A primo impatto, il suo corpo non mostra gravi lividi o ferite generate da una violenza estrema. Insomma, non sembrava avesse avuto un impatto fatale con un veicolo. L'autopsia in effetti non evidenzia ossa rotte o lesioni traumatiche che abbiano portato alla sua morte. Eppure, ripeto, dovrebbe essere stata colpita da un veicolo. Viene anche stabilito che ha un livello di alcol elevato nel sangue. Questo vuol dire che Linda aveva bevuto ed era ubriaca al momento della sua morte. Inoltre, non c'è dubbio che avesse subito un'aggressione intima. Il medico legale quindi scopre che la morte di Linda non è affatto stata causata da un incidente automobilistico, ma è stata causata da una sfissia, probabilmente causata da strangolamento. La polizia quindi a questo punto perquisisce la macchina che Charles ha noleggiato, ossia la Lexus. Ad un primo sguardo sembra che non ci sia nulla di anomalo, ma un'indagine più approfondita rivela che è presente una piccola quantità di sangue umano sul sedile posteriore. I detective fin dall'inizio sono scettici sulla versione di Charles, ma i risultati dell'autopsia combinati con l'esame della Lexus dissipano ogni dubbio. Le autorità a questo punto fanno una ricerca su Charles. Aveva qualche altro precedente? La loro indagine fa emergere che Charles, almeno fino a quando andava a scuola, era considerato un ragazzo normale, come tanti, con un grande talento per la fotografia. Nel giugno del 1979 era stato accusato di violenza intima a Worthington, in Ohio, ossia nella sua città natale. La vittima aveva lavorato con Charles e all'epoca aveva 22 anni. Aveva detto che mentre erano in un supermercato locale, Charles aveva minacciato di ucciderla se avesse emesso anche solo un suono durante la violenza. E in effetti le aveva fatto violenza nel supermercato locale. Dopo il fatto, Charles aveva detto chiaramente che voleva essere punito per quello che aveva commesso. Aveva detto che era ammalato, ma che nessuno gli avrebbe creduto. Alla fine, il suo avvocato aveva sostenuto che non c'era stata alcuna violenza. Era un atto consensuale. Ovviamente, dopo questa accusa, Charles aveva tenuto un profilo basso. Aveva lavorato come assistente fotografo a Detroit, concentrandosi principalmente sulla fotografia di automobili per agenzie pubblicitarie e produttori. Si era poi trasferito in California intorno al 1989, dove aveva costruito una carriera di successo facendo foto per i calendari e per delle riviste di automobili. Nell'ambito lavorativo, Charles era molto rispettato per la sua professionalità. Esattamente come Linda. Però Charles poteva anche risultare irritante e aveva un brutto carattere. Secondo un ex datore di lavoro, Charles era noto per lanciare gli oggetti che aveva sottotiro quando si arrabbiava. Spero non lanciasse mai la sua macchina fotografica, altrimenti ne doveva comprare una nuova settimana. Charles, inoltre, non ammetteva mai di essere intorto. Non aveva mai ammesso di aver sbagliato in qualcosa perché lui era perfetto. Sempre. Col tempo, però, aveva sviluppato una brutta reputazione perché si era avvicinato a dei modelli o modelle che lavoravano per lui arrivando al punto di chiedere favori intimi. Era diventato davvero fuori luogo e invadente. Questo comportamento aveva fatto perdere a Charles parecchi incarichi e tantissime modelle si erano rifiutate di lavorare con lui. La famiglia di Linda Sobeck a questo punto può finalmente affrontare il fotografo Charles Radboud nell'aula di tribunale di Torrance. Prima della sentenza, il padre di Linda, Bob, dice Non ho mai saputo cosa si provasse nel disprezzare qualcuno. Ora lo so, disprezzo questa persona così tanto. Charles è accusato di omicidio. Il suo processo è iniziato nel 1996. Ed è a questo punto che l'uomo cambia di nuovo la sua versione. Racconta che aveva scommesso su Linda 60 dollari perché voleva farle bere un bel po' di tequila. Linda aveva bevuto e alla fine aveva iniziato a sedurlo. È vero, non aveva colpito Linda con la Lexus, ma si era avvicinato abbastanza da farla cadere e quando era caduta aveva sbattuto la testa. Era stato a quel punto che l'aveva aiutata a salire nell'auto e quindi Linda aveva perso del sangue che era caduto sul sedere posteriore. A questo punto, secondo Charles, la ragazza lo stava minacciando proprio per l'incidente. Inoltre aveva iniziato a prendere a calci gli interni dell'auto. Per fermarla, spiega Charles, gli aveva afferrato il piede e aveva cercato di bloccare Linda sotto il suo peso, sempre mentre continuava a guidare. Aveva lottato con Linda per circa 30 secondi. Poi lei si era calmata, ma lui aveva comunque continuato a tenerla ferma. Dopo poco sostiene che si era staccato dal suo corpo, ma non era assolutamente sicuro che stesse continuando a respirare. L'aveva dunque appoggiata sul letto asciutto del lago e aveva tentato di rianimarla. Quando tutti gli sforzi erano stati inutili, l'aveva caricata nuovamente in macchina legandole le caviglie con una benda. Insiste particolarmente sul fatto che non voleva uccidere Linda e soprattutto non c'era stata alcuna violenza, perché ciò che avevano fatto era consensuale. Suo fratello Robert, infatti, aveva trovato 5 bobine di foto scattate nel deserto. Quelle foto mostravano diversi scatti di Linda, mentre c'erano altre foto di natura piccantina. Quelle immagini, secondo Charles, confermavano che il loro incontro intimo era consensuale. Quelle immagini non rivelavano mai il volto della donna, ma soprattutto erano anche state scattate in un'auto diversa, non nella Lexus che Charles aveva con sé quel giorno. I pubblici ministeri raccontano alla giuria una storia molto diversa, ossia la loro versione dei fatti. Credono che Charles in realtà non aveva alcun lavoro per la Lexus che coinvolgeva una modella. Sono sicuri che Charles avesse portato Linda all'Angelis National Forest con l'intenzione di attaccarla e aggredirla intimamente. Il fotografo aveva quindi legato la modella per le caviglie e aveva fatto violenza su di lei, anche da dietro con la sua pistola calibro 45. Linda aveva lottato così ferocemente che le sue caviglie legate mostravano segni di forte strofinamento. Alla fine credono che la ragazza fosse stata uccisa quando Charles si era seduto e gli aveva spinto la gola contro qualcosa per interrompere il flusso d'aria. La modella Tiffany Richardson testimonia che, durante uno shooting nell'ottobre del 1994 per la rivista All Shavy, in cui Charles era il fotografo, il nome di Linda era venuto fuori durante una pausa e Charles aveva detto che non avrebbe mai più accettato di lavorare con lei perché era una canna ed era molto complicato lavorare con lei. La modella e attrice Amy Webber testimonia che aveva lavorato con Charles quattro volte nel settembre del 1994 a Malibu per un servizio fotografico. Era presente anche Linda e in quella situazione Charles aveva iniziato a discutere con delle modelle che avrebbe dovuto scegliere per delle foto che dovevano essere pubblicate sulla rivista Sport Tark. Amy testimonia dicendo che quando aveva suggerito Linda per questi scatti, Charles aveva reagito violentemente, esclamando che Linda era una piccola sottana e che non meritava di essere scelta. L'accusa dunque presenta delle prove a sostegno del fatto che Linda Sobek aveva subito violenza al momento della sua morte e che il suo strangolamento era intenzionale. La difesa afferma che Linda Sobek era stata accidentalmente asfissiata dopo aver indotto Charles a fare cose mentre era ubriaca di tequila. Come già vi ho detto, hanno mostrato presunte fotografie scattate all'interno del SUV come prova del fatto che il rapporto tra Linda e Charles fosse consensiente, ma i giurati non avevano trovato credibili quelle foto e si chiedevano se per caso fossero false. L'accusa contrasta con prove forensi che Linda Sobek aveva subito violenza da dietro con una pistola prima dello strangolamento. Il pubblico ministero Steve Key dice alla corte La quantità di dolore che Linda Sobek deve aver subito sfida la mia comprensione. Poi continuo. La cosa che spicca di più per me è la completa mancanza di rimorso dell'imputato per quello che ha fatto. Prima di pronunciare la sentenza, il giudice Pitts riconosce il calvario della famiglia di Linda Sobek e le prove che Charles ha tentato di nascondere per giorni dopo l'omicidio di Linda. Tanto da andare avanti con la sua vita come se nulla fosse mai accaduto. Quindi il giudice si rivolge alla famiglia di Linda dicendo queste esatte parole. Ovviamente nessuno che non ha sopportato la perdita di un figlio può capire il vostro dolore, la vostra rabbia. Signor Radbun Charles non so se si rende conto del dolore che ha causato prima a Linda Sobek e poi alla sua famiglia. Dopo un processo durato cinque settimane, venerdì primo novembre 1996, Charles viene condannato per l'omicidio di primo grado di Linda Sobek all'ergastolo senza possibilità di condizionale. Durante le indagini su Charles le autorità si sono imbattute in due casi risolti per i quali considerano Charles un sospettato. E a questo punto iniziamo immediatamente a narrare quest'altra storia. Ebbene, a questo punto dobbiamo fare un passo indietro perché il 3 marzo del 1993 lo scheletro parziale della modella Kimberly Pandelios di 20 anni viene scoperto nell'Angeles National Forest. Come Linda, anche Kimberly era stata chiamata all'ultimo minuto da un fotografo sconosciuto per un incarico da modella. Ma facciamo ancora un passentino indietro. Cos'è successo esattamente a Kimberly? Il 29 febbraio del 1992 nell'Angeles National Forest un'automobilista di nome Jeff si imbatte in un campeggio. Nuota un furgone marrone e una tenda e una giovane donna bionda seduta lì vicino. All'improvviso, tre uomini si avvicinano al suo veicolo e iniziano ad urlargli contro. Gli dicono di andarsene e lui segue il loro consiglio. Non pensa di certo che ci sia qualcosa che non vada in quel momento quindi non chiama la polizia. Il 28 febbraio del 1992 ossia il giorno prima che Jeff vedesse la donna che credeva fosse Kimberly viene trovata la sua auto bruciata fuori da una strada vicino all'Angeles National Forest. L'incendio è stato appiccato sul lato passeggero. Gli investigatori ritengono che l'assassino abbia guidato quella macchina fino a lì. Al suo interno trovano i resti carbonizzati di un taccuino a spirale ma non sono presenti altri indizi. Poi, tre settimane dopo, un secondo taccuino ossia il suo dei runner viene trovato sotto un ponte a due miglia da dove è stata trovata la sua macchina. Un terzo taccuino che le appartiene è ancora disperso. Il giorno dopo la scomparsa di Kimberly la babysitter di suo figlio dice agli investigatori che un uomo di nome Paul l'aveva chiamata il giorno in cui era scomparsa. L'aveva chiamata alle 14 di quel pomeriggio dicendo che voleva confermare un appuntamento con lei. Poi, alle 19 l'aveva chiamata di nuovo ma lei non era in casa. Ha detto che aveva lasciato il suo taccuino degli appunti quando l'aveva incontrato. Le autorità ritengono che questo taccuino potrebbe essere la chiave per identificare l'assassino di Kimberly. La donna aveva detto a suo marito che sarebbe andata a fare un servizio fotografico all'aperto il giorno della sua scomparsa. Le autorità ritengono che abbia risposto a un annuncio sul giornale locale per un servizio fotografico. Una teoria è che fosse stata rapita dagli uomini che Jeff aveva visto al campeggio. Poi, questi uomini l'avevano presa in ostaggio e infine l'avevano uccisa. Tuttavia, le autorità non hanno la sicurezza che quegli uomini fossero effettivamente irresponsabili o se la donna fosse effettivamente Kimberly. Il fotografo Charles è sospettato in questo caso a seguito del suo arresto per l'omicidio di Linda Sobek. Infatti, entrambi gli omicidi sono stranamente simili. Entrambe le vittime sono giovani, attraenti e aspiranti modelle. Sono state attirate in una zona appartata con la promessa di un servizio fotografico e sono state trovate senza vita a soli otto chilometri l'una dall'altra nell'Angeles National Forest. Inoltre, un testimone si fa avanti affermando di aver visto Charles con Kimberly a un Dennis. Torniamo al 3 marzo del 1993 quando, come già vi ho detto, i resti scheletrici parziali di una giovane donna vengono ritrovati a una cinquantina di metri da un campeggio. Le cartelle cliniche identificano quei resti sono della ventenne Kimberly Pandelius scomparsa un anno prima. Lei e i suoi genitori erano emigrati negli Stati Uniti da Cuba stabilendosi in Pennsylvania. Nel 1991 lei e la sua famiglia si erano trasferiti a North Ridge in California. E a questo punto chi aveva iniziato a seguire corsi di business lavorando contemporaneamente part-time come modella. Quando le notizie sulla morte di Kimberly vengono trasmesse in tv Jeff la riconosce come la giovane donna del campeggio è certo che sia lei. Le autorità si recano sul posto con lui ma non viene trovata alcuna prova. Arriva il 2004 quando le autorità arrestano un uomo condannato per reati intimi di nome David Redmaker. Gli investigatori ora credono che sia lui Paul l'uomo che avrebbe dovuto incontrare il giorno della sua scomparsa Kimberly in quanto avevano trovato tabulati telefonici che mostravano che l'aveva chiamata poco prima del loro incontro. A quel tempo presumibilmente David gestivo un servizio di istituzione e una linea telefonica piccantina. David inoltre aveva menzionato più volte l'omicidio di Kimberly alla sua ragazza Mania. È interessante notare come una volta mentre stavano guardando una trasmissione riferita proprio al delitto di Kimberly aveva affermato che la teoria presentata su di essa ossia su più uomini che la rapivano era sbagliata. In un'altra occasione aveva minacciato di morte Mania dicendo che l'avrebbe fatta fuori come la giovane modella cui aveva fatto violenza dopo che aveva resistito alle sue avance nella foresta. Una volta erano addirittura andati lì David aveva controllato l'area in cui aveva ucciso Kimberly e aveva scoperto che i suoi resti erano ancora presenti. Aveva confessato a Mania che Kimberly lo aveva implorato di lasciarla andare dicendo che non sarebbe andata mai dalla polizia. Lui però non le aveva creduto quindi l'aveva annegata in un torrente lì vicino. Le autorità a questo punto interrogano Cynthia Heddonan l'altra fidanzata di David. La donna dichiara che David l'aveva portata all'auto di Kimberly la notte del 28 febbraio 1992. Poi le aveva dato fuoco. Cynthia in realtà aveva anche registrato delle sue telefonate nel tentativo di convincerlo a confessare. David di tutta risposta ammette di aver bruciato l'auto di Kimberly ma nega di averla uccisa. Alla fine la giuria chiaramente non ne gli ha creduto ed è stato condannato per l'omicidio di Kimberly all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Le autorità credono che Jeff si sia sbagliato sul suo avvistamento e che la donna che ha visto non fosse Kimberly. Charles alla fine come avrete immaginato viene assolto dal caso una volta che viene condannato David nel 2004. Il 7 dicembre 1993 la diciottenne Rose Larner di Lansing nel Michigan scompare. Dopo il suo arresto Charles diventa sospettato poiché viveva vicino a lei lo dimostra un indirizzo che aveva fornito sei mesi prima per la sua patente. Rose era decisamente una ragazza particolare infatti dormiva tutto il giorno e vagava tutta la notte con un gruppo di amici per le strade del lato sud-ovest di Lansing. Era chiacchierona e scaltra impavida e amichevole. Ai ragazzi piaceva Rose e a lei piacevano i ragazzi. Fin dalla sua prima adolescenza è stata diagnosticata come iperattiva dunque era una ragazza sempre in movimento in pratica stava ferma solo quando dormiva. Rose andava in chiesa due volte a settimana e adorava i bambini. Voleva fare la poliziotta come suo zio Timmy del Wisconsin e le piaceva preparare la casseruola di tonno e noodle per i suoi due fratelli. Un giorno aveva afferrato una pietra dal campo vicino alla sua casa di Miller Road e l'aveva lanciata verso un gruppo di ragazzi dall'altra parte della strada. Si era dunque creata una specie di lotto e Rose aveva collaborato con i suoi fratelli per battere quei bambini che in realtà non avevano mai incontrato. Quando Rose aveva otto anni grazie a quella battaglia con i sassi aveva conosciuto i Brown che vivevano in Huge Road. Era il 1983. Intanto gli anni erano passati e lei e Billy Brown erano ancora amici si erano ritrovati in classe insieme al quinto anno alla Mappel Grove Elementary. Condividevano la scuola l'aula gli insegnanti e un'amicizia che cresceva man mano che anche loro crescevano. Quando Rose aveva 15 anni aveva usato una forchetta per minacciare una ragazza che l'aveva presa in giro. Inoltre sempre in quel periodo sua madre era via per il fine settimana quindi Rose aveva organizzato una festa aveva bevuto della birra e aveva litigato con una ragazza che si era presentata per partecipare alla sua festa e divertirsi. Sua madre essendo preoccupata aveva esagerato la personalità complicata di sua figlia in modo da poterla ricoverare al Rivendell Psychiatric Hospital di St. Jones. Con quella mossa la donna era convinta che avrebbe calmato Rose e portato un po' più di stabilità alla sua famiglia turbolenta. Rose quando era tornata a casa aveva ottenuto il suo primo lavoro al Kentucky Fried Chicken a South Logan inoltre aveva un atteggiamento che sua madre non può dimenticare. Rose era irritabile probabilmente perché si era trovata bene al Rivendell Psychiatric Hospital di St. Jones si era fatta degli amici quel periodo peraltro era stato particolarmente problematico Rose era stata arrestata a Houston per taccheggio e aveva portato degli alcolici a scuola era il marzo del 1991 quando Rose aveva lasciato la Everett High School per iscriversi alla Sexton High School sperando che le cose sarebbero andate diversamente aveva 15 anni e sperava di inserirsi in una nuova scuola ovviamente a Rose mancavano i suoi amici Billy Brown e altri infatti era tornata a Everett in autunno per l'inizio del suo ultimo anno si era iscritta al Larry Hill Center for Academics and Technology ma aveva abbandonato gli studi lo stesso mese quindi aveva deciso di iscriversi per entrare nell'esercito degli Stati Uniti sperando che le avrebbe dato una possibilità in più per entrare in un'accademia di polizia dopo più di un anno di assenza dal liceo si era iscritta a una formazione professionale a Grand Rapids per finire gli studi delle scuole superiori a 17 anni aveva vissuto lì per alcuni mesi in un dormitorio con altre ragazze Rose aveva recuperato in fretta matematica e inglese quindi aveva conseguito il diploma nel giugno del 1993 proprio mentre i suoi compagni di classe di Everett si stavano diplomando la libertà dell'estate intanto era arrivata e Rose se la stava godendo al 100% in questo stesso periodo Rose aveva incontrato un rapper locale di nome John Ortiz Kehoe l'affascinante adolescente dei capelli scuri era amico dei fratelli Brown che conosceva bene anche Rose da anni e amava la musica rap i due ben presto iniziano a frequentarsi passa il tempo e il 17 novembre del 1993 Rose scompare senza lasciare traccia a questo punto dobbiamo fare un bel balzo in avanti e arrivare nell'aprile del 1996 quando Billy Brown si era fatto avanti voleva parlare principalmente perché sapeva che i suoi giorni erano contati Billy Brown quindi racconta al detective che una notte lui e John avevano portato Rose all'interno della casa dei nonni di John ad Elbion a 40 miglia su di Lansing quest'ultimo l'aveva uccisa e aveva fatto a pezzi il suo corpo all'interno della casa dei nonni Bobby ha affermato che non era lui l'assassino di Rose l'assassino di Rose era il suo amico John a questo punto John viene accusato di omicidio il 14 aprile Bobby Brown appare in tribunale per la sua citazione in giudizio e racconta la sua versione dei fatti la storia di Bobby Brown inizia a casa della sua famiglia al 29.06 di Midwood Street intorno alle 3 del mattino del 7 dicembre 1993 Rose gli aveva chiesto di sentire John quel giorno per organizzare una serata da passare assieme lei e John si erano frequentati per alcuni mesi quell'estate ma l'interesse per lei era svanito e tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre John voleva avere poco a che fare con Rose la polizia d'altro canto dice che Rose non aveva affrontato bene il rifiuto e aveva trascorso il mese successivo ad inseguire John Bobby e Rose come già vi ho detto avevano trascorso gran parte della loro infanzia insieme vagando per le strade del quartiere sud di Lansing Bobby era noto per essere in qualche modo protettivo nei confronti di Rose ma non era riuscito a convincere la sua amica a lasciar perdere John i tre giovani quindi avevano lasciato la casa di Midwood Street di Bobby verso le tre del mattino a bordo del pick up scevi bianco del fratello di John Bobby sostiene che John gli aveva portati lungo una strada sterrata di campagna sconosciuta si erano fermati poco dopo in un negozio vicino ad Elbion a 40 miglia a sud di Lansing nella contea di Calhoun John era entrato da solo in quel negozio ed era tornato entro mezz'ora con una borsa piena di oggetti l'aveva messa nel retro del pick up dicendo a Rose e a Bobby che aveva comprato cose per festeggiare durante la notte Bobby sostiene che aveva appreso in seguito che la borsa conteneva un coltello due bottiglie di liquido per accendini a carbone una accetta e alcuni sacchi della spazzatura i tre dunque si erano recati in una casa appena fuori a Elbion una piccola comunità di 10.000 persone nota per il suo college privato John era entrato da una porta sul retro quindi aveva lasciato gli altri due davanti Bobby pensava che fossero lì per fare cose intime e far uso di sostanzine insomma credeva fossero lì per festeggiare era pronto con una scorta di sostanzina leggera e polverina per andare avanti a far festa tutta la notte John e Rose avevano avuto un rapporto prima che tutti e tre entrassero insieme nella doccia calda Bobby Brown dice che John aveva raggiunto il bordo della doccia e aveva provato a porgergli un coltello che apparentemente aveva nascosto lì da qualche parte c'era stato uno scambio di sguadi divertiti poi quel coltello era stato riposto alla fine della doccia tutti e tre si erano rivestiti in bagno successivamente John se n'era andato mentre Bobby e Rose si spazzolavano i capelli era tornato poco dopo tenendo una corda che aveva fatto scivolare intorno al collo di Rose poi l'aveva strangolata Bobby lo aveva guardato mentre trascinava il corpo di Rose nella doccia e le tagliava la gola con il coltello poi John aveva preso una pausa dal suo lavoro ossia dal far sparire il corpo di Rose per far uso di un po' di polverina con Bobby in bagno quest'ultimo però si era sentito male insomma non era normale far uso di sostanze con un cadavere nella doccia erro quindi aveva vomitato e John aveva addirittura reso di lui John nel frattempo indossava solo i boxer aveva pulito il sangue di Rose mentre era ancora nella doccia poi era andato ad afferrare l'accetta e un blocco di legno Bobby in quel momento non era in bagno ma sostiene di aver sentito diversi colpi tuttavia non era riuscito a rimanere lontano per lungo tempo da quel bagno una volta entrato nella stanza dice che John aveva iniziato a fare a pezzi il corpo di Rose aveva diviso dal tronco le braccia poi dalle braccia aveva diviso le mani si era concentrato sui piedi e infine le aveva staccato anche poi aveva portato tutti i pezzi nel seminterrato dove li aveva gettati nel camino bruciandoli fino a quando non era rimasta per lo più cenere ed ossa infine i due avevano ripulito casa recuperato il corpo bruciato buttandolo nei sacchi della spazzatura che John aveva comprato avevano caricato il sacco della spazzatura nell'auto della madre di John e poi se ne erano andati con due pale e dieci galloni di benzina erano diretti verso nord avevano guidato per cento miglia fino alla proprietà della famiglia di Bobby sull'Island Lake a Meredith una comunità formata per lo più da pensionati nella contia di Goldwyn il sole stava sorgendo quando erano arrivati nel sonnolento villaggio del nord punteggiato di antenne paraboliche case mobili e cataste di legna avevano svoltato su Ruby Drive una strada stretta che circondava il lago di 75 acri erano arrivati quindi a destinazione John e Bobby a questo punto avevano scavato una buca nel terreno sabbioso e avevano posato un letto di tronchi nella fossa che si trovava di fronte a una baracca di compensato gli uomini avevano scaricato le parti del corpo di Rose nella fossa avevano versato della benzina e acceso il fuoco di nuovo le fiamme arancioni avevano inghiottito rapidamente il corpo di Rose e un flusso di fumo si era alzato sul tranquillo lago il corpo di Rose era stato bruciato in tutto per dieci ore quando il fuoco si era spento gli uomini avevano riempito i sacchi della spazzatura con le ceneri di Rose e li avevano caricati nell'auto avevano poi sparso le ceneri lungo il ciglio della strada e delle autostrade fino a Big Rapids dove viveva il fratello di John Tim quando i due ragazzi erano arrivati a casa sua a casa di Tim erano sporchi e anche molto stanchi Tim aveva chiesto a Bobby di cosa fosse successo a Rose John aveva sorriso Bobby invece aveva detto non importa non voglio nemmeno saperlo credimi Tim era sorpreso di vedere della benzina un accette delle pale in macchina ma aveva anche capito ben presto che fine avesse fatto Rose più o meno così i tre uomini si erano seduti in una camera da letto e avevano parlato di come costruirsi un alibi avevano quindi concordato che se la polizia li avesse interrogati loro avrebbero detto che si trovavano a casa del fratello di John Tim a Big Rapids la notte in cui Rose era scomparsa Bill spiega che lui e John avevano trascorso due giorni con Tim a Big Rapids poi Tim li aveva portati alla stazione degli autobus di Grand Rapids dove avevano comprato i biglietti per Greyhound ed erano saliti a bordo di un autobus per la Florida John Otiz Kehoe viene condannato all'ergastolo senza possibilità di condizionale per l'omicidio di Rose nell'aprile del 1997 sta scontando la pena presso il Thumb Correctional Facility di Lieper nel Michigan Charles quindi viene nuovamente scagionato quando nel 97 John viene condannato alla fine è chiaro che Charles abbia inventato una storia per cercare di spiegare alcune prove in possesso degli investigatori ma in realtà lui voleva solo fare delle cose con Linda e quando lei si era rifiutata lui le aveva fatto violenza e poi le aveva uccisa la domanda che a quanto pare molti ancora sollevano è Charles ha commesso altri omicidi? beh a quanto pare no visto che sono stati arrestati altri uomini anche se molti credono che dietro tutti gli omicidi ci sia proprio Charles io devo ammetterlo secondo me Charles non è affatto colpevole anche perché poi a quanto pare i veri colpevoli sono stati assicurati alla giustizia evidentemente la polizia nelle sue indagini non ha trovato traccia di Charles per gli altri due delitti secondo i registri della prigione della California Charles risiede ancora oggi presso la California Institution for Men a 60 anni io ho finito di parlarvi di questo caso chiaramente fatemi sapere se questo video è stato di vostro gradimento e scrivetemi quello che volete qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo caso io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti